Una volta arrivati prenderai tu in mano la trattativa. Che ci credi o no, mi è già capitato. So come vanno queste cose. In un mondo segreto, nella città. Hai mai trattato con i giapponesi prima donna? Questa non è una trattativa, è un omicidio. Sul campo di battaglia degli affari internazionali. Gli affari sono come la guerra, lo sa, vero? Può sembrare un conflitto fra est e ovest. Questa è una serata importante per la Nakamoto Corporation. Tra potere... La Nakamoto è una società onorevole. È passione. Noi non centriamo con le complicazioni che si sono create. Tra esperienza... Mai sottovalutare il tuo avversario. Mai accettare ciò che ti odi. È istinto. Abbiamo un omicidio qui. E voglio risolverlo. Questa non è l'America. Questo è il loro mondo segreto. Casa di piacere dove tengono le loro amanti. Non sei fuori del tuo territorio. Ma un solo uomo sa che le cose non stanno come sembrano. Vorrei vedere la registrazione di questa sfida del 46esimo piano. È stata cancellata ad arte. Cancellata? In questo momento qualcuno ci sta osservando. Il nemico potrebbe essere un alleato. Ehi! E niente è più ingannevole della verità. Beh, vede in Giappone. Chi si accusa di un omicidio non è detto che sia stato lui a commettere. Allora a che punto siamo? Siamo in zona di guerra. Sean Connelly, Wesley Snipes, sollevante. Chi si accusa di un omicidio non è detto che sia stato lui a commettere. Chi si accusa di un omicidio non è detto che sia stato lui a commettere. Grazie.